Non vogliono andare a vedere la tv perché sono talmente clamorosi che dopo dovrebbero darceli, quindi è una cosa un po' inspiegabile, ma io sono accaduto a dirgli che fosse data la palla fuori, ma Ciro avrebbe avuto il controllo del pallone, avrebbe dovuto crossare, avevamo due in aria, quindi non c'era nessun vantaggio a tuffarsi. Anche le dinamiche devono essere analizzate meglio dagli arbitri, sinceramente non capisco perché non vogliono andarlo a vedere, hanno questa tecnologia che secondo me è una tecnologia utile, ma deve essere usata in maniera consapevole, come ha fatto nel secondo tempo, è andato a vederlo, poi lascia stare, quando lo vedi poi uno può prendere la decisione che vuole, ma almeno andare a vedere così come è successo contro la Juve che non sono andati a vedere per un'altra volta qualcosa che era clamoroso. Noi quest'anno non so come, non so perché, ma ci sarà la VAR spenta quando giochiamo noi. Grazie.